Le cose non hanno significato, hanno esistenza, tutto si compone intimamente come gli elementi chimici nei corpi viventi. In questo libro vengono raccontati fantasmi, vengono raccontate idee. Viene raccontata quella spaventosa realtà nascosta di più, la materia digitale con le sue simmetrie e esimetrie, è un linguaggio carico di particolari rivestimenti ritmici e poetici.